...i genitori di questi bambini, perché stavolta eravamo a letto stanchissimi. Chi si sente, Regina? Chi? Lei? Tutta regina è triste. Ma il propriocio è triste. Chi ti pensa? E' arrivato lei. Chi? Le ho venite in calma, non me lo ho pensato. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Grazie